www.mesmerism.info 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 Vai, ti senti dentro. Stai seri, te devi stare solo e seri. Non mi sassossimo. Non può dire, non guarda niente. Vai, vai. Vai, vai. Buonissimo, bravo, vai. Se anche loro lo mettevi... ...e continui a giocare prima lui. www.mesmerism.info Gioca, gioca, portiere, dai! Ok, non perdiamo tempo! Su! E! 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 Laterale! E! 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 Gioca! E! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti